Vai, il set del PIP Cool Mattia Farmiero Vai un'altra cosa Vai Vai Vai, la testa, eh? Sì Pronto Vai Questa è la quarta Pronto Vai No, sempre dieci Vai 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 A presto! A presto! Ciao! Ciao! Vai! Vai! 30? Si! Mancano 5 secondi! Aspetta! Ti doio il via! Ok! Vai! 10? Ok! Altri 30! 5 secondi! Vai! 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 Dai, dai, lui. Vai. Pronto, vai. Dai, dai, dai. Aspetta? Sì. Tosta, eh? Ti odio. Vai, 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 pronto. Vai, vai. Vado? Sì. Quanto manca? 10. Tu fai 4. Vai. Sì, sì. Sì, sì. Vai. Quanto è notico? Giordo. Sì. Quanto sì.